Ciao a tutti, benvenuti o bentornati sul mio canale Io sono Veronica, se non ci conosciamo se non ci conosciamo, ci conosciamo con un video che non ho mai fatto perché anche io mi sono iscritta su Vinted e vi volevo far vedere tutti i capi che ho messo in vendita ve li faccio vedere subito allora, il primo è questo che è ancora con il cartellino perché non sono riuscita a fare il reso perché mia mamma ha votato via lo scontrino sono questi i pantaloni di Stradivarius con tutti questi puntini e hanno una gamba abbastanza ampia però stringono un po' di più sulla coscia e si allargano è un effetto che a me non piace però se vi piacciono li potete trovare sul mio Vinted taglia è XL il prezzo lo lascerò lì sono carini e sono nuovi con l'etichetta che non l'ho mai utilizzati poi questa ha già fatto successo su Vinted la vogliono un po' tutte questa tuta intera, taglia L presa anni fa dai cinesi ma in essa è una tuta che è così tutta con i bottoni la parte sopra mentre la parte sotto ha i jeans molto molto aderenti è tutta elasticizzata è molto carina andava di moda e anche le due tasche dietro è carina ma proprio sono molto magre poi sempre di Stradivarius questi qui che sono dei pantaloni culotte tutti a costine con l'elastico che sul mio fisico non avvengono proprio niente sono belli ma sul mio fisico non vanno proprio sono tutti a costine molto larghi poi passiamo a un po' di jeans jeans di Tully Vile questa è una 40 europea quindi una 44 italiana neri con le zip molto aderenti a vita alta anche le due tasche dietro sono molto aderenti a vita alta altro jeans sempre di Tully però è una 42 quindi una 46 sono quelli in mano strappati un po' scoloriti tutti strappati questi sono abbastanza elasticizzati jeans di Zara sì mai messo preso sotto consiglio di una mia amica ma non me lo sono mai messo un jeans nero semplicissimo di Zara la taglia è una 46 carini però non si altro jeans di Tully Vile taglia 40 tutto con i bottoni a vita alta questo è molto bello se fossi più magra è una 44 ma M praticamente molto bello anche il lavaggio con le tasche laterali molto aderente ma non mi stanno alla perfezione poi altri jeans di Tully sempre preso grazie a mia cugina ma non li ho mai messi sono bellissimi ma li ho mai messi qui sono molto aderenti con questo intreccio tipo corpetto e la zippa laterale molto belli molto aderenti taglia 40 ma 44 che a me non va poi pantaloni di Stradivarius anche questi simili a quelli a Pua taglia L che sono un po' più aderenti sulla coscia e poi si aprono dal ginocchio neri in crepe sono carini ma sul mio fisico non vanno veramente bene gli ultimi sono questi di Pinky comprati l'anno scorso con questo mega elastico questi shorts con i tasconi molto carini taglia deve essere un L una 46 un europeo 42 una 46 una L carini ma non mi valorizzano per niente e niente questi erano tutti i miei articoli su Vinted fatemi sapere se vi interessano e ci organizziamo su sull'app Vinted ovviamente ve lo scriverò qui il mio nome su Vinted poi potete cercare vedere tutte le foto i prezzi di questi capi spero che il video vi sia piaciuto è stato utile in qualche modo lasciate un like un commentino qui sotto iscrivetevi al canale mi raccomando vi mando un grosso bacio e noi ci vediamo al prossimo video ciao ciao ciao